Il treno regionale di Trenitalia delle ore 9.22 proveniente dall'Urna Centrale ha liberato un po' di possibilità. Il treno regionale di Trenitalia delle ore 9.22 proveniente dall'Urna Centrale. Il treno regionale di Trenitalia delle ore 9.22 proveniente dall'Urna Centrale. Il treno regionale di Trenitalia delle ore 10.22 proveniente dall'Urna Centrale. I don't know why we'd want that on there, but ok. That's how it works. I don't know why we're here, but I don't know why we're here. That's how it works. 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 That's how it works.